Abbiamo una colorazione sulla moto incredibile quest'anno, alla prima vista sono rimasto senza parole perché è una moto veramente aggressiva, allo stesso tempo elegante, sarà fantastico portarla in pista. Finalmente inizia la stagione dopo un inverno comunque lungo, mi sento pronto, l'RSV4 è una moto fantastica e saranno due gare qui a Filippazio davvero emozionanti.